Ben ritrovati con la nostra informazione, da ieri sera è ufficiale, l'Alessandria Calcio ha un nuovo proprietario, si tratta dell'imprenditore torinese Luca Di Masio, titolare di una catena di negozi tra i quali l'Olympic di piazza San Carlo a Torino, il neoproprietario dei grigi ha ritirato da Gianluigi Capra il 100% dell'intero pacchetto azionario. Sentiamo Franco Capone. In una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'Alessandria Calcio si è appreso ieri sera a tarda ora che l'architetto Gianluigi Capra, amministratore delegato dell'Unione Sportiva Alessandria Calcio, al vertice della società per oltre un anno ha ceduto l'intero pacchetto dell'Alessandria. Il neo acquirente, infatti, Luca Di Masi, titolare e imprenditore del settore dell'abbigliamento, fra l'altro anche proprietario del negozio Olympic di Torino, ha comprato il 100% delle quote societarie e che gli accordi, per quanto riguarda la squadra, verranno formalizzati nella prossima settimana. La trattativa ha avuto un lungo iter e si è svolto a Torino nello studio legale di un avvocato, uno dei più importanti studi legali specializzato anche nel settore commerciale ed imprenditoriale del Piemonte. Secondo quanto è trapelato, i legali o hanno voluto confrontare debiti e creditori per avere una precisa idea di quello che serviva per formalizzare gli accordi. Si è appreso inoltre che della società faranno parte alcuni soci scelti esclusivamente dalla proprietà e si tratterebbe di imprenditori molto vicini alla famiglia di Luca Di Masi. Concluso i conteggi, con un accordo definitivo è trapelato anche il costo dell'intera operazione che sarebbe stata superiore ai 5 milioni di euro. Somma servita per azzerare tutti i debiti esistenti a partire dalla cessione di Beltroni a quella dell'avvocato Rossini e poi all'architetto Capra. Si è appreso inoltre che il neopresidente dei Grigi avrebbe anche pianificato una somma pari ai costi della gestione del campionato in corso. Fra le clausole è quella del patrimonio giocatori che resteranno di proprietà del neopresidente che comprende tutti i tesserati, l'allenatore Giovanni Cusatis e il direttore sportivo. Il comunicato della società Alessandrina fa osservare inoltre che continuerà il silenzio stampa per tutti i giocatori salve le interviste all'allenatore Cusatis al termine della finitura del sabato e nel post partita della domenica. Intanto oggi poveriggio si è appreso che un gruppo di tifosi e di ultras sarà a Torino in piazza San Carlo davanti al negozio Olympic per festeggiare e applaudire il neoproprietario dell'Alessandria Calcio. La politica ci avviciniamo alle elezioni del 24 e 25 febbraio. Vi diamo in questo servizio tra poco le regole per chi voterà e la presentazione di alcune liste nell'Alessandrino. Se ne è occupato Dede Vinci. Si avvicinano molto velocemente le elezioni del 2013. Si voterà infatti tra meno di un mese, domenica 24 e lunedì 25 febbraio. Domenica 24 le urne saranno aperte dalle 8 del mattino alle 22 di sera, mentre lunedì 25 febbraio si voterà dalle 7 del mattino fino alle ore 15. Per rinnovare la Camera dei Deputati voteranno gli iscritti nelle liste elettorali che compiranno il 18esimo anno di età entro il 24 febbraio 2013 compreso, mentre per l'elezione del Senato voteranno gli elettori che compiranno 25 anni di età sempre entro il 24 febbraio 2013 compreso. Quasi tutte le liste si stanno presentando in questi giorni agli elettori per far conoscere quali sono i candidati. Intanto è stata inaugurata la sede del Comitato elettorale della lista Scelta Civica con Monti per l'Italia, alla presenza del Ministro Renato Balduzzi, che sarà capolista alla Camera per Piemonte 2, c'era anche Andrea Olivero, capolista per il Senato e la candidata alla Camera Laura Gastaldi. Molti rappresentanti politici, autorità presenti in sala. Anche la Lega Nord ha salutato i candidati alle elezioni politiche nella provincia dell'Alessandria per le elezioni, ospite d'eccezione c'era il segretario nazionale della Lega Nord Piemonte, capolista alla Camera onorevole Roberto Cota, poi c'erano ancora Luisa Baruffa, candidato alla Camera per la zona del Novese, Marco Protopapa candidato al Senato per l'Acquese, Giuseppe Filiberti della Lega Nord in provincia per il Senato e poi naturalmente per la Camera dei Deputati nel Collegio Piemonte 2, segretario provinciale Riccardo Molinari. Per il Movimento 5 Stelle sono stati presentati i candidati per la circoscrizione Piemonte 1, quindi la Camera rappresenta la capolista Laura Castelli di Collegno, per la circoscrizione Piemonte 2, sempre alla Camera la capolista Fabiana Dadone di Mondovì, Davide Crippa di Oleggio, Mirco Busto di Vercelli, Gianluca Cagliazza di Alessandria. I candidati al Senato presentati nella serata sono stati invece il capolista Marco Scibona di Bussoleno, Carlo Martelli di Novara, Alberto Airola di Torino, Mauro Willem Campo di Peregnano, Simona Barbero di Alessandria, Fabrizio Gallo di Novi Ligure, Gabriella Ieropoli di Alessandria e Vincenzo Lombardo di Castellazzo Bormida. Ce ne siamo già occupati nell'edizione di ieri sera, torniamo all'ultimo atto della fondazione del teatro regionale Alessandrino, la giunta piemontese ha infatti deliberato lo scioglimento del suo dalizio facendo calare il sipario sulla cultura della città e allo stesso tempo facendo alzare la scure sulle sorti dei 15 dipendenti tuttora in cassa integrazione. Sentiamo Catti Porcetto. Il teatro è da sempre l'arte più rappresentativa dell'uomo in quanto immutabile, attraverso un vuoto, un continuo riecheggiare trasformando di volta in volta l'ambiente che è intorno, per cui cambiano lo scenario, i costumi, le sonorità, le voci, ma l'elemento costante dell'attore e della presenza umana in scena rimane. Il teatro è l'arte più eversiva ma soprattutto dovrebbe essere considerato come una necessità collettiva, come un bisogno del cittadino perché è una città senza cultura e come una stanza al buio. Ed è proprio il buio che sta per calare sulla fondazione teatro regionale Alessandrino che su proposta dell'assessore alla cultura Michele Coppola verrà definitivamente sciolta. motivo la grave situazione economica, sono oltre 3 i milioni di debiti, la quasi totale inattività e la conseguente impossibilità di perseguire i fini istituzionali e statutari. Un sipario che cala e che fa tremare soprattutto i 15 dipendenti attualmente in cassa integrazione e sulle cui sorti incombe un grande punto interrogativo circa il loro futuro. Una situazione già denunciata dal sindaco di Alessandria Rita Rossa nel momento della presentazione della stagione teatrale che comunque, anche se un po' raffazzonata e itinerante tra i teatri della provincia, sta andando in scena. Oggi la giunta regionale ha di fatto ufficializzato l'avvio del processo di messa in liquidazione dalla fondazione con i soci che dovranno riunirsi in assemblea per seguire tutto l'iter e nominare un liquidatore a cui spetterà l'arduo compito di pagare i debiti e stabilire un futuro della cultura alessandrina. D'altronde i problemi economici non erano solamente di competenza del comune ma della regione stessa che già il mese scorso aveva confermato le proprie difficoltà a garantire le quote assicurate invece negli anni scorsi. Una situazione alla stregua di un dramma che si abbatte contro i cancelli del teatro comunale di Alessandria, chiuso per la presenza di Amianto dal 2 ottobre del 2010 e sulla cui bonifica non si conoscono ancora del tutto quali saranno i tempi di intervento. Intanto sullo scioglimento dalla fondazione TRA è intervenuto il consigliere regionale PDSino Rocchino Moliere il quale ha affermato che la decisione della giunta non rappresenta altro che l'ultimo passo di un percorso chiaro da tempo e un brutto segnale per il futuro del teatro. Completato nel 1978 sulle fondamenta del vecchio Virginia Marini, il maestoso teatro comunale di Alessandria rischia di recitare il suo ultimo drammatico atto, uscendo definitivamente di scena e lasciando così una città capoluogo di provincia, orfana della necessità di fare della cultura l'educazione dei suoi abitanti. A giudizio tre marocchini per spaccio e detenzione di droga, altrettanti hanno patteggiato uscendo di scena. Nella vicenda sono coinvolti anche due Alessandrini per aver affittato un alloggio in modo irregolare. Sentiamo Emma Camagna. Non si può affittare un alloggio a chi è privo di permesso di soggiorno. È reato punito con una condanna fino a tre anni. L'inosservanza del divieto ha messo nei guai l'agente immobiliare Nunzio Varsalona e Monica Brezzi, proprietaria di un appartamento in via Milazzo che, dice l'accusa, concessero in locazione per un mese nel 2008 al marocchino Khalid Bouh Nane, il quale lo aveva trasformato in una piccola centrale per la vendita di droga. La difesa sottiene che all'epoca dei fatti la legge non era ancora entrata in vigore. Saranno processati il 13 ottobre con Bouh Nane, Rodouane Abdel Jabbar e Moabed Ashatou, accusati di detenzione e spaccio di droga. Gli ha incriminati il gruppo Stefano Moltrasio. Altri tre inquisiti hanno patteggiato uscendo di scena. Sono Marco Conte, tre mesi in continuazione con altra condanna, Taibi Bellai, dieci mesi, Enzo Allegretti, otto mesi, sostituiti da sedici, di libertà controllata. Il commercio di droga, cocaina e in qualche caso Ashis era stato stroncato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza che si era avvalsa anche di strumenti satellitari. Nella piccola organizzazione ognuno svolgeva determinati compiti, ma per l'accusa le maggiori responsabilità ricadono su Bouh Nane. Non si sa quanta sia stata la merce venduta. Certo non poca dal momento che gli investigatori avevano sequestrato oltre un chilo fra cocaina e Ashis. I rifornimenti avvenivano a Milano dove operava un altro marocchino giudicato separatamente. Ancora cronaca, si svolgeranno oggi alle 15 nella parrocchia di Fubine in provincia di Alessandria i funerali di Adriano Bacigalupo, il pensionato che la settimana scorsa si è tolto la vita dopo aver colpito con un martello la consorte. Il paese è ancora sotto shock per quanto accaduto, soprattutto perché Adriano Bacigalupo era molto stimato in paese per le sue doti di altruismo, quale infermiere volontario e della protezione civile. La moglie, Bianca Goudar, 69 anni, è stata dichiarata fuori pericolo e dimessa dall'ospedale di Alessandria dove i medici l'hanno giudicata guaribile in 20 giorni. I carabinieri del quartiere Cristo di Alessandria hanno denunciato per furto una donna 42enne residente nella frazione di Cantalupo. La denuncia è partita dalla proprietaria di una società del quartiere alla quale era stato rubato un orologio in oro che custodiva in una scrivania. I carabinieri sulla scorta della denuncia, dopo aver ispezionato alcuni comprooro della zona, hanno rinvenuto in uno di questi varie parti dell'orologio e risalendo attraverso la consultazione dei registri e delle generalità di chi li aveva venduti, sono arrivati alla ladra che fra l'altro è risultata essere una conoscente della derubata, la quale nella mattina della sparizione si era proprio recata a farle visita. La donna, a vistasi scoperta, ha restituito le parti mancanti dell'orologio e il denaro ricevuto dal comprooro, 1.300 euro. Di qui la denuncia per furto con destrezza. Ultima pagina. Inserire le linee Asti, Alba e Alessandria, Castagnole, Lanze, tra quelle che verranno messe a gara dalla regione Piemonte. Sperimentare un sistema misto ferro-gomma, in base al quale le corse più affollate siano effettuate con il treno e le altre mediante trasporto su gomma e ancora estendere in tempi brevi ai territori dell'Astigiana e dell'Alessandrino il biglietto integrato Piemonte, che prevede l'integrazione tra bus, treno e bicicletta. Bagliare eventualmente con le risorse del Fondo Europeo FAS la fattibilità di un collegamento veloce tramite metropolitana leggera che unuisca Alessandria, Alba e Asti, passando attraverso il nodo di Castagnole delle Lanze. Sono queste le quattro richieste contenute in un ordine del giorno presentato dal consigliere regionale del Partito Democratico Angela Motta e sottoscritto dalla collega Rossanna Valle di Progetto d'Azione. Il servizio ferroviario lungo le linee Asti-Alba e Alessandria, Castagnole e Lanze, si legge nella nota diffusa, collega centri importanti dal punto di vista industriale, commerciale e turistico, che in anni precedenti è stato messo in sicurezza grazie a consistenti investimenti. In caso di soppressione definitiva delle due linee, molte infrastrutture rischierebbero di essere abbandonate a se stesse. E chissà se ci sarà lo zampino di qualche vegetariano svedese nella proposta che sta facendo letteralmente rabbrevidire il mondo dei carnivori. La questione sta facendo discutere gli europarlamentari e potrebbe avere pesanti ripercussioni sulle tasche dei cittadini, almeno di quelle che vendono e mangiano carne. Ci mancava pure questa, e potrebbe arrivare presto, la tassa sulla carne. Avete capito bene? Il Consiglio Svedese per l'Agricoltura ha infatti proposto all'Unione Europea l'introduzione di un'imposta per scoraggiare il consumo della carne, portando i cittadini del vecchio continente a preferire nei loro menù verdura, pasta, pane e frutta. Il suggerimento arriva proprio mentre la Commissione sta discutendo sulle future sovvenzioni che l'Unione dovrà stanziare per sostenere le attività agricole. Escludere la carne dai menù quotidiani, secondo gli esperti svedesi, porterebbe dei benefici sia alla salute sia sull'ambiente. A sostegno di questa tesi i dati della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che segnalano come gli allevamenti pesino il 18% sul totale delle emissioni di gas serra. Ma come rispondono gli allevatori italiani, che già soffrono di una situazione deficitaria, poiché il 50% della carne prodotta nel bel paese deriva dall'ingrasso di giovani bovini acquistati dall'estero? Come molti altri comparti agricoli, gli allevamenti stanno vivendo un momento di forte difficoltà, ha affermato Giampiero Amelio, vicepresidente APA, l'Associazione Provinciale Allevatori di Alessandria. Premesso che dalla produzione al consumo la carne subisce un aumento di sei volte tanto e che non credo, ha proseguito, che i bovini siano responsabili principali delle emissioni dei gas serra, vorrei ricordare che il nostro sistema si occupa della qualità sanitaria e della tracciabilità del prodotto. I motivi per valorizzare la zootecnia trovano un senso nel ciclo biologico dell'ecosistema e rappresentano un valore aggiunto per l'Italia. Basti pensare, ha concluso Amelio, che noi siamo all'avanguardia nella bovina piemontese, la maggior razza a livello nazionale e se non ci fosse il liquame di questi animali, i tanti impianti a biomasse che stanno nascendo ultimamente non potrebbero funzionare. Una misura che andrebbe ad incidere quanto sul suo lavoro? Una percentuale considerevole perché innanzitutto per i prodotti vendita al banco, ma in prima battuta agli allevatori che comunque per dare ai macellai un prodotto di una certa qualità devono comunque affrontare delle spese non indifferenti, quindi a partire dai mangimi e dai foraggi che danno gli animali. Fare qualità, avere un certo tipo di prodotto in Italia, che cosa comporta? Fare qualità comporta costi alti, oneri molto alti, quindi normative a volte troppo restrittive, lasciando magari perdere cose che arrivano dall'estero con pochi controlli. e comunque la qualità poi, come si diceva prima, di riflesso viene sul prezzo al banco, quindi il consumatore se vuole un prodotto di una certa qualità deve essere disposto a spendere e di questi tempi assolutamente non siamo competitivi. Il signore acquista carne e la mangia? È buonissima anche, l'importante è che mancano i soldi per comprarla, ma è buonissima, fa molto bene, è nutritiva, e purché sia allevata dai nostri allevamenti. Cambiamo ancora argomento, andiamo ad Acquiterme, dove c'è stato un pronto intervento dell'amministrazione comunale che ha ripristinato a tempo record la scalinata della schiavia. Sentiamo Bruno Mattana. A causa delle piogge e delle nevicate delle ultime settimane, ma anche del tempo che ha modificato la base di sostegno, nei giorni scorsi la storica scalinata della schiavia di Acquiterme, nella parte più bassa, ha lasciato cadere gli scalini. Emergenza, subito parzialmente è interrotto il transito che porta al Duomo. L'amministrazione comunale con il sindaco in prima linea è subito intervenuta e nel giro di qualche giorno l'emergenza è stata risolta. Sentiamo il sindaco Bertero. Mi sarebbe molto bello riuscire a programmare le cose e poi farle con cadenza programmata. Questa qua è stata un'emergenza, però l'abbiamo risolta immediatamente perché, insomma, questa, come dicevi giustamente, è una scalinata che è molto fotografata dai turisti che arrivano... Sino al Duomo. Arriva sino al Duomo, collega appunto, quello che era il borgo meridionale, adesso è il Corso Italia, che è la via piedonale per eccellenza di Acqui con il borgo della... L'hanno paragonata alla scalinata di Trinità dei Monti addirittura. Addirittura, beh chiaro, nel nostro piccolo, difatti, l'assessore al turismo, Mirko Pizzorni, aveva già pensato di organizzare qualche sfilata qua, quest'estate, quindi poi potremmo... Assolutamente, adesso è a posto, è completamente risolto il problema. Qualche giorno ancora di chiusura parziale perché... Assolutamente. ...perassessare... Bravissimo, è stato, tanto per dire, è stato messo il terreno che mancava, sono stati fatti gli spuntoni che collegano i gradini alla casa qua della Tessilnovi, fatto questo adesso abbiamo... E di nuovo messo in sicurezza. Comunque siamo riusciti a raggiungere il patto di stabilità, è chiaro che... con fatica, quindi è chiaro che ogni piccolo intervento non previsto è un aggravio. Però, insomma, abbiamo fatto anche un avanzo di amministrazione di circa 700 mila euro che ci ha consentito di arrivare a questo raggiungimento di patto di stabilità, vuol dire che amministrando bene, senza voli pindarici, ma con cose concrete, Acqui è una cittadina turistica, quindi deve avere qualche cosa. E poi, insomma, aspettiamo sempre questa privatizzazione delle terme che sarà la tocca sana della nostra città. A Novi Ligure ora con Enrico Marià, dove c'è ancora qualche giorno per poter presentare una domanda per i cantieri di lavoro per disoccupati. Ha il gusto di una boccata di ossigeno, di un qualcosa che permette di rifiatare, di respirare a pieni polmoni, almeno per un po'. Mancano pochi giorni, infatti, per la consegna della domanda di partecipazione per il bando dei cantieri di lavoro per disoccupati presso il comune di Novi Ligure. La domanda di partecipazione, corredata dal modello ISEE, redditi 2011, deve essere indirizzata all'ufficio personale e va presentata entro le 12 dell'8 febbraio all'ufficio protocollo di Via Gramsci 11, anche tramite posta elettronica all'indirizzo protocollo chiocciolacomune.noviligure.al.it. Grazie ai contributi messi a disposizione da Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune, saranno impiegate 14 persone per la durata di 130 giornate lavorative e per 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni alla settimana. I progetti prevedono l'impiego presso i servizi lavori pubblici e verde pubblico. Possono presentare domanda solo i residenti nel comune di Novi, di età superiore ai 45 anni e iscritti nelle liste del centro per l'impiego sempre di Novi. Gli altri requisiti richiesti sono il possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado, licenza elementare o assenza del titolo di studio. Gli allievi che prenderanno parte al cantiere frequenteranno un corso di formazione specifico in merito all'attività svolta e un corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Per la durata del cantiere i lavoratori manterranno la figura giuridica di disoccupati e la conseguente iscrizione al centro per l'impiego. Al lavoratore competerà un'indennità lorda giornaliera di 23,40 euro per 5 ore giornaliere. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio personale o l'ufficio per le relazioni con il pubblico sportello del cittadino. Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili anche sul sito internet del comune di Novi. La pagina sportiva tra poco a cura di Gianluca Ardiani, poi previsioni del tempo e rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni. L'Alessandria a rugby conquista un punto nella sfida contro la SR Milano, persa per 19 a 12. La classifica si muove ma c'era ammarico per i ragazzi allenati da coach baldovino per una gara che poteva avere un esito diverso. I grigi sono infatti rimasti a lungo in vantaggio dopo le mete di Cullai e Berrite e la trasformazione di Cala. Nella ripresa i milanesi sono riusciti a rimontare anche grazie all'inferiorità numerica dei padroni di casa che hanno chiuso la partita in 13 uomini. Un'occasione persa per lasciare il fondo della classifica, ancora occupato dall'Alessandria, con 7 punti a 4 lunghezze dall'Union Milano. La prossima giornata di campionato è in programma per il 17 febbraio e si preannuncia come una sfida proibitiva ma anche affascinante per i ragazzi del Befe d'Alessandria. Avversario di turno sarà infatti la capolista Biella, lanciatissima in vetta con 5 a 1 punti e che all'andata si impose senza fatica per 45 a 7. Da rugby all'hockey in line, con i ragazzi dello sport leale di Monleale che proseguono il loro campionato di vertice in Serie A1, nonostante la battuta d'arresto nell'ultimo turno contro i diavoli Vicenza che si confermano autentica bestia nera per le compagini d'alta classifica e costringono al pari per 4-4 i tortonesi. A sei giornate dal termine della regular season, la squadra guidata da Alessio Crivellari comanda insieme ai campioni d'Italia del Milano 24-quanta con 27 punti. Nelle arti marziali si avvicinano i primi appuntamenti dell'anno per la prestigiosa Accademia Kodokan di Alessandria che sarà presente con il suo Kung Fu Team ad uno dei più importanti eventi internazionali della stagione, il Milan International Open Wushu Kung Fu in programma a Milano nel weekend. E' prevista la partecipazione di circa 500 atleti provenienti da tutta Europa che si confronteranno in tutte le discipline previste nel Wushu. E 500 atleti erano presenti anche al XII Trofeo Città di Castiraga Virardo in provincia di Lodi, manifestazione di judo nella quale i giovani atleti dello Yuma Alessandria hanno ben figurato ottenendo importanti piazzamenti seguiti a bordo tatami dall'allenatore Terzo Dan Alessandro Meda. Dal Kimono ad Arco e Frecce con gli arcieri della società Città della Paglia che tornano dalla gara indoor 18 metri disputata a Vercelli con un terzo posto nella classifica squadre Arco Olimpico Senior grazie ad Andrea Maggi, Luca Lamborizio e Davide Guerci. Buona prova per Francesca Bocca che si classifica quinta stabilendo il proprio record personale con 515 punti. Grazie a tutti.